Valentina Vignali Furiosa Valentina Vignali Furiosa, l'ex Stefano Laudoni insieme a Francesca Brambilla Stefano Laudoni insieme a Francesco Brambilla, Valentina Vignali si sfoga sui social. Stefano Laudoni e Francesca Brambilla pare stiano insieme. E una notizia che è uscita nelle ultime ore, dopo alcune foto da loro caricate sui rispettivi account di Instagram. A confermare la notizia ci ha poi pensato Valentina Vignali, l'ex di Laudoni. Dopo una relazione durata anni, la cestista ha dato l'annuncio riguardante la fine della sua storia d'amore con Stefano. . Nessuno si sarebbe mai aspettato di ricevere una simile notizia. Infatti, la coppia è sempre apparsa felice e molto unita. Eppure pare che qualcosa tra loro non angasse. . La Vignali, mentre dichiarava di chiuso con il Laudoni, affermava anche di aver subito un tradimento. . Sarebbe questo il motivo per cui Valentina avrebbe scelto di lasciare Stefano. . Ma, più volte, il Laudoni si era ribellato a questa notizia, smettendo di aver tradito la Vignali. . Ora la cestista sembra aver avuto la sua rivincita. . Infatti, dopo davvero pochissimo. . . Valentina Vignali sconvolta per il comportamento dell'ex Stefano Laudoni e Francesca Brambilla. . La Brambilla, una delle nuove star di avanti un altro, sarebbe riuscita a conquistare il cuore del Laudoni. . E' proprio la foto di Francesca a confermare la loro vicinanza. . Attraverso le sue storie di Instagram, la Brambilla ha mostrato il suo nuovo fidanzato, con cui si stava scambiando un bacio. . Inizialmente i fan non riuscivano a comprendere l'identità del giovane. . Ma ecco che un dettaglio ha dimostrato che al suo fianco vi è attualmente Stefano. . A confermare ci pensa anche Valentina, sempre più affranta per questa situazione. . . Di fronte al commento di una fan, riguardante il dubbio sulla relazione tra Laudoni e la Brambilla, Valentina dice la sua. . Che ridere! Neanche il coraggio di dirlo poi, lo sgamato io che mi aveva tradita. . Valentina Vignali, Francesca Brambilla era pure una mia amica. . E tempo una settimana, baci e boomerang insieme, quella era pure una mia amica, continua così la Vignali, la quale confessa che la Brambilla era una persona molto vicina a lei. . . Neanche il rispetto per una persona che dicevi di amare per quattro anni e mezzo. . Senza parole. . La Vignali dimostra di, essere sempre più sconvolta della situazione che si è andata a creare e soprattutto del comportamento del suo ormai ex fidanzato. . 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